Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Nair Club, io sono Gheela. Questo sarà l'ultimissimo video top gadget del 2017. Il motivo è molto semplice, manca pochissimo Natale e dovete fare gli acquisti assolutamente entro oggi, massimo domani o altrimenti rischiate veramente di non ricevere il pacco a casa. I corrieri stanno lavorando come dei pazzi e il rischio che il vostro pacco non arrivi è molto alto, quindi correte subito ad acquistarli. Vi farò velocizzare un po' il tutto, infatti vi ho messo il link qui sotto in descrizione a tutti i prodotti di cui parlerò in questo video. Direi però di non perdere altro tempo, quindi facciamo partire la sigla e poi vi parlo di questi cinque prodotti che hanno veramente prezzi totalmente diversi uno dall'altro in modo tale che possiate trovare veramente il prodotto che fa al caso vostro per stupire qualcuno durante le feste di Natale. Direi sigla! Il primo prodotto è di una casa olandese che si chiama XD Design e ha creato svariati prodotti per la portabilità, quindi per poter portare con noi i nostri device. In questo caso vi voglio parlare del Bobby. L'avrete visto sicuramente su qualsiasi social, perché la pubblicità gira tantissimo, ma gira anche quella dei fake, o meglio di aziende che hanno letteralmente copiato il concept e hanno realizzato dei prodotti più economici. Però vi posso dire fin da subito che la qualità di questo prodotto, ovvero dell'originale, è decisamente superiore a tutte le copie, però se volete spendere qualcosina in meno troverete anche queste versioni. Che cos'ha di particolare questo zaino? Beh, è famosissimo perché è pensato per l'antitaccheggio, ovvero per evitare che dei ladri possano aprire il vostro zaino e rubarvi le cose più preziose. Infatti la cerniera che permette di aprire l'unico vano disponibile, beh, è posta proprio tra lo zaino e la nostra schiena, in un posto effettivamente dove è difficilissimo arrivare, evitando che il proprietario se ne accorga. Oltre alla tasca principale, dove potremo alloggiare comodamente un portatile fino ai 15 pollici, oppure anche un tablet da 10 pollici, abbiamo svariate altre tasche nascoste. La tasca che mi è piaciuta di più è quella posta nella parte inferiore, che si appoggia perfettamente alla nostra schiena. Infatti oltre a essere praticamente irraggiungibile da chiunque, per lavoro ma anche per viaggio o anche quando state andando a scuola, è perfetta per poter inserire i propri documenti o anche qualche contante. Sarete pienamente al sicuro. Non è uno zaino molto spazioso, ma vi permette tranquillamente di utilizzarlo giorno dopo giorno, come vi ho detto prima sia per scuola, lavoro, e anche per dei piccoli e brevi viaggi. Direi non più di due o tre giorni, ecco. Non di più. Comodissima la cinghia per poterlo collegare al trolley e anche il fatto che sia completamente impermeabile. Lo trovate in diverse colorazioni e questo è uno di quei prodotti che vi possono far fare bella figura. Quello che sta sicuramente molto bene all'interno dello zaino che avete visto prima è un selfie stick, insomma, non riusciamo più a farne a meno. E in questo caso è un selfie stick Bluetooth di Anker. Innanzitutto devo fare un elogio ad Anker per la qualità costruttiva di questo prodotto, in lega di alluminio molto resistente e con l'attacco personalizzabile praticamente per qualsiasi smartphone attualmente presente sul mercato. Una cosa molto importante per i selfie stick è ovviamente la lunghezza e in questo caso abbiamo ben 75 centimetri. Notevole, no? Potete veramente fare foto da posizioni incredibili. Essendo Bluetooth funziona praticamente con qualsiasi dispositivo e il tasto posto sul manico serve proprio per scattare le nostre fotografie. Sono sicuro che sia compatibile al 100% con iOS e Android. Non ho provato su Windows Phone, ma immagino di sì. Il manico è un po' più spesso rispetto agli altri selfie stick Bluetooth che trovate sul mercato. Il motivo è molto semplice, al suo interno c'è una batteria molto capiente che vi fa portare l'autonomia a 20 ore. Il che è assolutamente un valore aggiunto, tra le altre cose nel giro di circa due ore al massimo lo avrete ricaricato al 100%. E così potrete scattare altre migliaia di foto. Direi che il divertimento è infinito. Se foste un po' preoccupati del fatto che una batteria di questo tipo possa pesare, in realtà è molto molto leggero grazie anche come vi ho detto prima alla struttura in lega di alluminio e potete ricaricarlo tranquillamente tramite una micro USB. Magari collegandolo anche a un powerbank, potete fare veramente quello che volete. Ma veniamo al pezzo forte di questa selezione, una videocamera a 360 gradi, nello specifico la Garmin VIRB 360. Una videocamera tra le migliori in assoluto per quanto riguarda questa tecnologia che riesce a realizzare video fino a 5.7K. Ovviamente quando parlo di 5.7K non intendo la risoluzione del video che poi effettivamente vedremo su YouTube o su qualsiasi altro player online. Ma la risultante di quella che è la combinazione delle due videocamere che trovate su questo singolo corpo. Per farla breve avrete un video in full HD però navigabile a 360 gradi. Non voglio ora farvi una recensione completa perché comunque la cosa è abbastanza lunga. Quello che vi posso dire è che sono molto contento della qualità del video che esce da questa camera. Anche perché non siete obbligati a dover fare tutto in post produzione. Potete infatti abbassare leggermente la qualità da 5.7K a 5K e sarà la camera stessa a completare il tutto. Quindi quello che voi farete sarà semplicemente scaricare dalla memoria un video già preparato per il 360. Ma vi ricordo una cosa importante. L'azienda che ha costruito questa camera è Garmin e Garmin è specializzata in GPS. Infatti mentre registrete il video avrete anche tantissime informazioni come l'altitudine, la velocità e tanti altri dettagli come ad esempio il tragitto che state facendo. Una volta quindi che avrete importato il video potrete utilizzare l'applicazione di VIRB proprio per mettere a video alcune informazioni della vostra avventura. Vi prometto che prima o poi porterò la recensione completa di questa camera anche perché io e Serena l'abbiamo portata con noi in un viaggio che abbiamo fatto qui sulle colline toscane nella zona di Siena guidando dei quad. Quindi è stato molto molto divertente e abbiamo fatto anche delle belle riprese. Ovvio è un costo decisamente notevole per una camera parliamo di 800 euro, 700 euro se la trovate in offerta però riesce a fare veramente qualcosa di grandioso. È superiore secondo me alle concorrenti presenti attualmente sul mercato anche alla nuova camera di GoPro. E intendo quella proprio per il 360, non la GoPro Hero. Non mi voglio dilungare più di tanto però se volete fare un regalo speciale e indubbiamente originale questa Garmin VIRB 360 può fare al caso vostro. Siamo arrivati al quarto prodotto di questa carrellata e vi voglio presentare un prodotto che non è forse così tanto tecnologico questo no però vi permette di sostituire o una lavagna o la semplice carta. Ed eccola qui, è una lavagna LCD molto ma molto semplice non ha una memoria interna per salvare i dati non ha la possibilità di salvare quello che si va a scrivere serve proprio per far divertire i bambini per disegnare ad esempio oppure utilizzarla come una semplice lavagna come vi ho detto prima così per memorizzare le note più importanti della giornata una lista della spesa o qualsiasi cosa voi vogliate senza il fastidio dei gessetti che come sapete sporcano tantissimo. All'interno della scatola trovate anche la penna ovviamente per poter scrivere i vostri appunti non ha sensibilità alla pressione quindi il tratto è sempre costante però rispetto a tante tavolette che ho provato in passato questa è una di quelle che ha il tratto molto più luminoso e questo è un vantaggio perché non dovete per forza necessariamente essere a favore di luce e voi mi direte sì ma è LCD quindi dovrebbe avere almeno un po' di energia per funzionare vero? però in realtà questa tecnologia vi permette di scrivere praticamente con consumo pari allo zero il vero consumo lo si ha soltanto quando si va a premere il tasto per cancellare tutta questa lavagna infatti se cliccherete sul link qui sotto in descrizione andrete sulla scheda tecnica di questo prodotto e vedrete come l'autonomia della batteria sia definita con un'unità di misura molto particolare ovvero 50.000 cancellazioni di lavagna beh avete la possibilità di scrivere sbagliare e cancellare veramente un'infinità di volte poi comunque potrete cambiarla è una semplicissima batteria per intenderci a forma di moneta e siamo purtroppo giunti alla fine di questo video con l'ultimo prodotto rimaniamo più o meno nel mondo delle tavolette grafiche in questo caso con una vera e propria tavoletta grafica ma come vedete estremamente sottile e flessibile è la prima volta che mi capita di utilizzare una tavoletta grafica di questo tipo è molto economica costa infatti soltanto 38 euro però è un settore dove il prezzo basso purtroppo determina anche la qualità stessa del prodotto io uso tavolette grafiche giornalmente per lavoro e mi sono sempre affidato a Wacom tavolette sicuramente molto costose però anche di estrema qualità ed ero anch'io scettico quando l'azienda mi ha proposto di provare questo prodotto però devo dire che la sua particolarità ovvero di essere alta solo 2 mm mi ha stuzzicato l'ho voluta quindi mettere alla prova sia per quanto riguarda il disegno sia per quanto riguarda un gioco che è pubblicizzato dalla stessa azienda che ha prodotto questa tavoletta ovvero Osu io sono assolutamente negato in quel gioco però ho provato comunque a fare qualcosa la tavoletta grafica ha ben 2048 livelli di sensibilità alla pressione grazie alla penna che comunque è attiva quindi ha bisogno di energia per funzionare all'interno della scatola troverete comunque una batteria da inserire al suo interno i due pulsanti poi della penna possono essere personalizzati grazie a un piccolo software che dovrete scaricare dal sito del produttore a meno che voi non abbiate un lettore cd perché all'interno della scatola troverete anche un cd con driver e software e per far chiarezza è compatibile da Windows 7 in su quindi anche l'8, l'8.1 e il 10 e poi macOS a partire dal 10.10 come vi ho detto l'ho messo un po' alla prova con Photoshop anche per vedere se effettivamente la pressione funzionasse e mi sono trovato molto bene cosa importantissima è che il piano dove lo appoggerete sia perfettamente liscio perché essendo una tavoletta morbida subisce qualsiasi variazione e questo potrebbe dare un po' di problemi quando magari dovete fare un disegno un po' più nel dettaglio per quanto riguarda OSU invece quindi il gioco beh mi sono trovato bene io come vi ho detto non sono un professionista per niente anzi sono scarsissimo però sono riuscito a fare comunque meglio che col mouse perché comunque questo gioco trova la sua massima espressione con l'utilizzo di una tavoletta grafica posso dirvi con certezza che a livello di qualità prezzo ci troviamo davanti a una tavoletta grafica interessante non vi aspettate certo di poter competere contro una Wacom o qualsiasi altro prodotto di quella fascia devo dire però che è un'ottima entry level soprattutto se non avete mai provato tavolette grafiche in vita vostra e volete magari provare a avvicinarvi a questo mondo in quel caso è inutile spendere molto di più perché potreste trovarvi male in quel caso avreste buttato via dei soldi quindi se siete neofiti mi sento di consigliarvela beh ragazzi anche per questo video è tutto io spero che questi prodotti vi siano piaciuti ho voluto veramente variare il più possibile offrendovi prodotti di qualsiasi tipo e soprattutto di qualsiasi fascia di prezzo però mi raccomando correte subito ad acquistarli perché sennò farete veramente una brutta figura se avete dubbi o domande riguardo a questi prodotti lasciatemi un commento qui sotto e mi raccomando seguitemi sempre su Instagram dove sono super attivo e vi porto aggiornamenti anche per quanto riguarda le novità di questo canale non mi resta quindi che salutarvi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con un prossimo video a presto 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 Grazie a tutti.